La presenza del Governo proprio a testimoniare la forza che il Governo vuole mettere proprio per guardare avanti e soprattutto per mettere in sicurezza le vite umane e per non metterne a repentaglio nessuna. La presenza del Governo qui anche sta a certificare, qui in quest'ultima cerimonia pubblica, quello che vuole essere un momento di aggregazione tra istituzioni, tra cittadini, tra familiari, un momento per guardare avanti, per guardare oltre, uniti, ma nel ricordo appunto di quello che è successo in queste due tragedie.